una fiat 131 in base al sito motor 1.com nei suoi anni la fiat 131 ha dei listini prezzi che con la prima serie vanno da 2 milioni e 300 mila a 2 milioni e 900 mila di lire e con la terza tra 8 mila e 113 00 e 1778 e ti ha mangiato la pasta e mi tocca la bocca finisciola marco non è bello mi darei mano alla bocca marco marco